L'Italia crede profondamente nel futuro dell'Afghanistan, è quanto ha dichiarato il ministro degli Esteri Giulio Terzi in conferenza stampa congiunta con il suo omologo afgano. Durante la bilaterale con il ministro Rasul, Terzi ha ricordato il più che decenale impegno italiano in Afghanistan nelle sue molteplici dimensioni e i progressi raggiunti dal paese. Il capo della diplomazia italiana ha ribadito il pieno sostegno all'Afghanistan per assicurare la riuscita del processo di transizione in corso, che terminerà nel 2014, accompagnato da una progressiva riduzione dei contingenti internazionali. L'Italia sarà al fianco del paese asiatico anche nel post-2014, durante il cosiddetto decennio della trasformazione, con una presenza meno basata sul contributo militare e più sulla cooperazione economica, la crescita della società civile e sul consolidamento e la formazione delle capacità istituzionali. Cornice giuridica e politica di questa intesa di lungo periodo è l'accordo di partenariato firmato tra Roma e Kabul, che dà un rafforzato impulso alla cooperazione italo-afghana. Il ministro Rasul ha sottolineato i progressi effettuati da Kabul ancora impegnata nel percorso di stabilizzazione e di riforme per superare due banchi di prova, i diritti e la condizione delle donne e i prossimi appuntamenti elettorali.